Sarà convocata entro i prossimi 15 giorni una nuova assemblea del mercato ortofrutticolo di Pagani Nocera. Al centro dell'incontro la definizione del programma di liquidazione che dovrà contemplare l'aumento dei ricavi e una diminuzione dei costi per far fronte al piano di rientro di cui la gestione dovrà farsi carico prevedendo anche un ristoro per gli enti proprietari. Attualmente è previsto per i commissionari un piano di 12 mesi per il recupero delle somme pregresse. A fronte di una posizione di canoni pregressi nei confronti dei comuni che quindi ricordo risalgono al 2016 atto di acquisizione a patrimonio da parte di entrambi i comuni provenienti dalla regione Campania, da quel momento sono maturati dei crediti da parte del comune e che al loro volta devono essere comunque una posizione che deve rientrare. Questa posizione rientrerà nell'arco di un piano di 12 mesi che prevede la corrispondizione di una somma pregressa e anche di una somma poi relativa all'attualità. Di contro invece con i commissionari stiamo muovendo un rapporto intanto di interlocuzione perché si prevederà comunque anche un sacrificio da parte loro e quindi una rivisitazione dei canoni a loro volta per rientrare in questa posizione e permettere che come dicevo prima entro il 31-12 secondo accordi convenzionali poi si chiuda definitivamente questa fase per poi prevedere una nuova fase per il consorzio. Dall'ultima assemblea che abbiamo avuto, all'ultima assemblea soci, con i soci si è deliberato di rinviare a stretto giro quindi nell'arco di 10-15 giorni provvedere ad una nuova convocazione dell'assemblea e quindi per l'approvazione del programma di liquidazione che prevede appunto il ritorno di questa posizione pregressa con entrambi i comuni proprietari, ritorno economico dicevo e di contro quindi contestualmente anche l'approvazione da parte dei commissionari di questo programma di liquidazione che li vedrà direttamente interessati. Loro, io con il Presidente mi sento costantemente, ci siamo sentiti anche ieri e a breve ci vedremo in questa settimana probabilmente all'inizio della prossima ma credo a strettissimo giro per definire anche con loro tutti i passaggi da mettere in campo. Poi sempre a breve si porterò all'attenzione dei soci la bozza di bilancio 2022 e poi via via quella 23 e successivamente quella di chiusura insomma del 2024. Grazie a tutti.